Ciao a tutti! Come state? Noi benissimo e vi facciamo tanti tanti auguri di buon anno, come ho scritto qui. Ciao! Vi auguro tante tante belle cose. E lui è mio padre. Ciao, sono Gigi. Che cosa fa qui oggi? Allora, che cosa fate voi per Capodanno? Noi prima di tutto brindiamo con lo spumante. Ovviamente aspettiamo la mezzanotte. E insieme allo spumante ci vuole sempre il panettone. Adesso facciamo vedere che cosa è il panettone. E' questo qui. Questo è un dolce tipico natalizio italiano, che tutti noi mangiamo durante le feste di Natale. Quindi a Natale, a Capodanno, per la Befana, eccetera. E di solito gli italiani lo comprano già pronto, confezionati. Ma oggi lo facciamo a casa, anzi lo fa lui. E vediamo un po' la ricetta. Quindi oggi impariamo a fare il buonissimo panettone. Vediamo un po' che cosa ci vuole prima di tutto. Prima di tutto la farina, il lievito. Ecco questa è la pasta già lievitata, che ho già preparato. Adesso aggiungiamo le uova, perché ci vogliono due uova. Le mettiamo così. Quanta farina ci vuole? Mezzo chilo. Ok. Quindi ce ne vuole mezzo chilo. Ce ne vuole mezzo chilo. Di cui già lievitata una parte, poi ne aggiungiamo fino a mezzo chilo con un'altra. Insieme alle uova. Ok, qui abbiamo la pasta già lievitata. Adesso sbattiamo le uova. Quanto ci vuole per far lievitare la pasta? Per far lievitare la pasta ci vogliono almeno un'ora. Ci vuole almeno un'ora? Ci vuole almeno un'ora, sì. Ok. Hai diretti un'ora e mezzo? Più o meno. Un'ora e mezzo per la cottura. Ah, per la cottura. Ok. Quindi ci vuole almeno un'ora. Adesso aggiungiamo lo zucchero e le uova. Quanto zucchero ci vuole? 100 grammi di zucchero. Quindi ci vogliono 100 grammi di zucchero. Abbiamo messo lo zucchero. Sbattiamo le uova con lo zucchero. Mi raccomando fatelo anche voi a casa. Bene bene. Quindi oggi impariamo una bellissima ricetta tipica italiana. E poi mi dite anche che cosa mangiate voi a Capodanno insieme. Che cosa usate da accompagnare allo sfumante per brindare al nuovo anno. Poi scusa? Ci mettiamo anche il miele e il burro o la margarina. Se non si vuole il lattosio. Sì sì. Usare la margarina. E la aggiungiamo qui alle uova. Quindi ci vuole anche... Io ho messo 200 grammi di miele. Quindi ci vogliono 200 grammi di miele. Eccolo qua. 200 grammi di burro. E ci vogliono anche 100 grammi di burro o margarina. Dipende. Se volete stare più leggeri magari usate la margarina. Oppure se non tollerate il lattosio. Poi aggiungiamo a questo... Aggiungiamo l'uvetta. Uvetta o uva passa. Allora potete aggiungere anche dei canditi. Però il panettone classico si fa soltanto con l'uva passa. O uvetta è la stessa cosa. Questa qua, la vedete? E' uva essiccata. Eccola qua. Poi adesso aggiungiamo un po' di latte. Con lievito? Con lievito. Ok. Abbiamo fatto sciogliere il lievito nel latte già da prima, giusto? Sì. Va bene. Quindi dovete aggiungere anche un po' di lievito. Ovviamente per far lievitare tutto questo impasto. Quindi per far crescere l'impasto. Per dargli questa forma. Ci vuole della scorza di arancia grattugiata. Che io adesso una parte l'ho già grattugiata. Le grattugio in un'altra parte. Con la grattugina. Che ci vuole un po' di sapore di scorza di arancia. Va bene. Quindi abbiamo detto ci vuole anche un'arancia da grattugiare. Ovviamente grattugiamo solo la scorza, cioè la buccia. La grattugiamo come se fosse del parmigiano. E mettiamo tutto nell'impasto. Quindi continuiamo ad impastare, ad amalgamare. Quindi la aggiungiamo alle uova. Ovviamente per adesso non ancora all'impasto lievitato. Quindi abbiamo messo le uova. Il miere. Il lievito. Il lievito. La scorza d'arancia. E adesso il burro che era già mischiato al miere. Adesso aggiungiamo il resto della farina. Perché una parte è già lievitata. Adesso aggiungiamo un'altra parte per rendere un po' più solido l'impasto. Ok. Quindi abbiamo messo, abbiamo detto, mezzo chilo di farina e ne aggiungiamo un altro po'. Compressivamente. Esatto. Ne aggiungiamo un altro po' per rendere un po' più solido l'impasto. A questo punto amalgamiamo con la farina già lievitata. Quindi mischiamo, amalgamiamo. Ecco qua. E poi ci vuole una bella mescolata per rendere l'impasto omogeneo. Poi abbiamo il nostro chef. Sono un pasticcere. Un po' pasticcione. Non volevo dirlo ma... La battuta sul vassoio d'argento. No, meno male che non l'ho fatto io. Allora ricordate ragazzi che però non è proprio un corso di cucina. Non siamo dei professionisti. E' una ricetta a casa reccia. Anzi, come ho detto, la maggior parte degli italiani comprano questo panettone già pronto in confezione. Perchè ci vuole un bel po' di tempo per farlo lievitare, per farlo cuocere al forno. E quindi diciamo una ricetta un po' dispendiosa. Nel senso che avete bisogno di un po' di tempo per farlo a casa. Ma ovviamente il panettone fatto a casa è più buono di quello confezionato. Poi a volte lo compriamo confezionato anche per regalarlo agli amici, ai parenti, al medico di famiglia, eccetera. Comunque è una grande tradizione. Va bene. Quindi abbiamo amalgamato. Quindi aggiungiamo ancora un po' di farina per rendere il pasto. Il resto è di 500 grammi di farina, del mezzo chilo. Ah ok. Quindi il mezzo chilo, scusate, non andava messo tutto assieme. Andava messo... Una parte già lievitata con lievito naturale. E una parte invece per rendere, una volta che si aggiungono gli altri ingredienti, allora si aggiunge la farina per rendere l'impasto un po' più compatto. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo mescolare bene. Fatelo anche voi a casa, mi raccomando. Seguite tutte le istruzioni, poi dopo adesso ripeterò anche le quantità. Così rispettate bene le quantità perché altrimenti il panettone diventa così alto. E lievita troppo, per esempio. Oppure rimane troppo basso. Quindi mi raccomando. Qui? Sì. Una volta amalgamato tutto quanto, qui abbiamo uno stampo da mettere al forno. Ok. Mettiamo tutto, poi c'è della carta da forno. Sì. In modo che l'impasto poi non rimanga, che una volta cotto non vada ad attaccarsi all'impasto lo stampo, quindi rimanga distaccato dallo stampo. E sì, se no si attacca. Così come avviene, come nell'esempio che abbiamo davanti. Allora aspetta, ti do una mano. Se tieni un attimo i salati è a posto. L'ho già fatto, sì. Ecco qua. Questo è fatto. Va bene. Quindi magari bisogna dare un po' la forma con l'occhiaio. No, non so. No, va bene così. Adesso si. Si spremola solo. Una volta riempito lo stampo, si prende e si mette dentro il forno e si fa cuocere per circa 90 minuti. Vi guardate una partita di calcio nel frattempo? Ecco. 90 minuti giusti giusti. Il forno, prima di mettere il forno, il forno deve restare calcio. Deve essere già caldo. Già caldo. Quindi 180 gradi il forno e per 90 minuti circa. Il tempo di una partita di calcio. Poi a fine cottura, per assaggiare se il panettone è cotto bene, si può fare una prova con un coltello. Si infila nel centro e una volta estratto il coltello, si sente se il coltello è asciutto, allora il panettone è cotto. Se invece si sente ancora umido, allora conviene rimetterlo nel forno per un altro po' di tempo. E' perché il panettone è un po' come tutti i dolci cotti al forno. A volte ci mette un po' di più, altre volte ci mette un po' di meno per raggiungere la cottura ideale. Quindi questo è il segreto per capire se il panettone è ben cotto o è ancora un po' crudo. Va bene, comunque in generale più o meno ci vogliono 90 minuti, ma controllate con il coltello. Benissimo. Questo è pronto, possiamo metterlo subito nel forno. Io vado a sistemarlo nel forno. Perfetto. Va bene, spero che abbiate imparato anche voi e che stiate facendo contemporaneamente il panettone. Vado a sistemare nel forno. Ci vediamo dopo, grazie mille. Ci vediamo dopo, ciao. Ciao, benissimo. Quindi questa volta abbiamo imparato a fare il buonissimo panettone. Adesso lo mettiamo al forno. Ovviamente non aspettiamo i 90 minuti perché vi faccio già vedere. Il risultato finale è questo. Ok? Il panettone dovrebbe uscire più o meno così. Va bene. E mi raccomando insieme al panettone bevete lo spumante e aspettate la mezzanotte. Bene. Allora oggi abbiamo fatto una puntata speciale per Capodanno. E siccome siamo durante le feste e io sono brava, non vi ho voluto far studiare troppo, non vi ho voluto insegnare troppe regole grammaticali. Quindi vi ho fatto un regalo, vi ho fatto una lezione come imparare a fare questo panettone. Però ragazzi, qualcosa la impariamo lo stesso. Che dite? Infatti noi comunque durante questa ricetta, durante questo dialogo, abbiamo più che altro ripassato delle cose che avevo accennato nelle lezioni passate. Dovete rivedere, dovreste rivedere magari la lezione 30 e la lezione 45. Allora, ripetiamo un attimo la ricetta così vi ricordate anche come fare bene questo panettone. Abbiamo detto che ci vuole prima di tutto mezzo chilo di farina. Ma ci vogliono due uova, ci vogliono 100 grammi di zucchero e ci vogliono 200 grammi di miele. Poi abbiamo detto ci vogliono 100 grammi di burro o margarina. Poi 200 grammi di uva passa o di uvetta, questa qua. Ci vogliono anche 50 millilitri di latte. Io per esempio che non tollero il lattosio, uso quello senza lattosio. Quindi 50 millilitri, quindi poco poco latte. Va bene. Poi ci vuole anche del lievito naturale. E infine ci vuole un'arancia, ma ci serve solo la scorza da grattugiare. Quindi questa è la ricetta del panettone. Poi mio padre ha fatto vedere in diretta come fare questo panettone. Poi abbiamo detto quanta farina ci vuole? Ce ne vuole mezzo chilo. Quante uova che adesso abbiamo utilizzato ci vogliono? Ce ne vogliono due. Allora, prima di tutto rivedete la lezione 45. Perchè? Perchè questo è uno dei tanti usi del pronome ci. Vi ricordate quel pronome che confonde così tanto gli studenti? Perchè comunque abbiamo diversi usi di ci. Quindi ci vuole significa che è necessario avere mezzo chilo di farina. Però mezzo chilo è singolare. Quindi ci vuole mezzo chilo di farina. Per esempio ci vuole un'arancia. Va bene? Ci vuole un barattolo di miele. Ma di miele ce ne vogliono 200 grammi. E infatti adesso andiamo a vedere qui. Va bene? Quindi può andare a singolare. Ma ci vogliono due uova, plurale. Ci vogliono 100 grammi. Quindi qua stiamo già usando il plurale di zucchero. Ci vogliono 200 grammi di miele, eccetera. Quindi quando è necessario utilizzare qualcosa ci vuole al singolare, ci vogliono al plurale. Infatti io ho detto insieme allo spumante ci vuole il panettone. Nel senso che è quasi necessario. Per noi è una grande tradizione questo panettone. Va bene, abbiamo detto questo. Quindi singolare, plurale. Poi quanta farina ci vuole? Ce ne vuole un mezzo chilo. Allora ripassiamo due cose. Uno il ne, rivedete la lezione, 30. Quindi quando abbiamo una quantità. Perchè? Mezzo chilo è una quantità di farina. Ok? Questo è un chilo. Sì, questo è un chilo di farina. Ma siccome io non lo posso mettere tutto, perchè sembrerebbe cemento questo panettone. Allora io devo prendere non tutta la farina, ma devo prenderne una parte. Cioè metà, metà confezione. Va bene. Quindi questa è una quantità. Abbiamo detto ce ne vuole mezzo chilo. E poi un'altra cosa, perchè io qua uso ci e qua uso ce, perchè io ho detto diverse volte che quando abbiamo ci insieme a un altro pronome, perchè qua non abbiamo un altro pronome e resta ci. Ma qua abbiamo anche il ne, quindi ci ne vuole. Lo so che magari per voi può sembrare normale, ma in italiano suona molto molto male. E' proprio brutto da sentire. Allora Veronica, per Capodanno ha sempre la sua bacchetta magica che trasforma il ci in ce. Vi ricordate? Eccolo qua. Quindi ricordatevi che il ci, come avevo già detto nelle scorse lezioni, diventa, diventa ce quando è prima di un altro pronome. Quindi ricordate queste due cose. Il ne per le quantità, rivedete alla lezione 30. E poi il ci che diventa ce, magicamente, prima di un altro pronome. Poi abbiamo detto ci vuole un po' di tempo per impastare il tutto e per far lievitare l'impasto. L'impasto era tutto questo. Ci vuole almeno un'ora e mezzo. Qua si usa molto. Per il tempo significa che è necessario un po' di tempo. E che è necessario almeno un'ora e mezzo. Quindi si usa tanto, questo ci vuole. Sia per le quantità e per le cose che sono necessarie, che per il tempo necessario per qualcosa. Poi uso anche, poi infine si mette, quindi questo è un impersonale. Vedete la sua forma impersonale. L'impasto in una teglia o in uno stampino, quello che abbiamo già messo in forno, che metteremo nel forno a 180 gradi. Ricordate il forno già caldo. Ci vogliono circa 90 minuti. Abbiamo detto il tempo di una partita di calcio, di cottura. L'impasto a volte ci mette un po' più di tempo per cuocere. Per questo ci vuole un coltello per controllare la costura. Abbiamo fatto la prova con il coltello. Ricordate se è asciutto significa che è ben cotto, se il coltello è umido significa che il panettone è ancora crudo. Va bene, abbiamo usato anche questo ci mette. Quindi metterci vuol dire impiegare. Per esempio abbiamo detto, possiamo dire per esempio per fare il panettone, per cuocere il panettone ci vuole un'ora e mezzo o ci vogliono 90 minuti, perché ci vuole un'ora e mezzo è singolare, ci vogliono 90 minuti è plurale. Posso dire anche il panettone ci mette un'ora e mezzo per essere cotto oppure ci mette 90 minuti. Ci mette però è più facile, ovviamente non si può usare sempre. In questo caso si però. Perché io posso dire ci mette 90 minuti, ci mette un'ora e mezzo. Significa che impiega 90 minuti o un'ora e mezzo, che è la stessa cosa di tempo, per essere finalmente cotto. Benissimo, quindi questa è la ricetta del panettone. Abbiamo imparato tante cose, abbiamo imparato a fare questo buonissimo dolce tradizionale natalizio e quindi avete imparato anche la nostra cultura, che cosa mangiamo, che cosa facciamo a Capodanno. Abbiamo ripassato un po' di regole, abbiamo visto ancora questi usi di C, che cosa è necessario, eccetera. E io adesso chiamo di nuovo mio padre così vi fa tanti auguri. E' pronto il panettone? Eccoci qua. Benissimo, quindi continuate a seguirmi su www.oneworlditaliano.com Continuate a seguire le mie lezioni, vieni che saluti tutti quanti. E vi auguriamo un felice anno nuovo da One World Italiano Video. Cin cin! Tanti auguri! Tanti auguri! Ciao a tutti, a presto! Ciao cin cin! Ciao!